Uno degli studi che ha destato maggior interesse al congresso dell'ASCO che si è appena concluso pochi giorni fa a Chicago non è stato uno studio su nuovi farmaci, è uno studio invece che ha valutato un impiego alternativo della chemioterapia. In sostanza la possibilità di ridurre in certi pazienti con tumore del colon la durata della chemioterapia da sei mesi a soli tre mesi, quindi una prospettiva affascinante per l'ovvio impatto sulla qualità di vita di questi malati. Noi ci facciamo raccontare esattamente questo studio, come è stato condotto, in quali tipi di pazienti, con che risultati, da un vero esperto di questo tipo di tumori, dal dottor Alberto Zaniboni, oncologo presso la Fondazione Poliambulatorio di Brescia, che abbiamo incontrato qui a Napoli in occasione del congresso nazionale del GOIM. Ricominciamo dai pazienti, dottor Zaniboni. Chi erano i pazienti in cui è stato condotto lo studio che si chiama IDEA? Si tratta di una metanalisi di circa 13.000 pazienti provenienti da sei studi su base planetaria. Sono pazienti in terzo stadio operati radicalmente con linfonodi positivi, in cui c'è stata una randomizzazione tra tre mesi di chemioterapia o sei mesi di chemioterapia a base di oxali platino. Questa poteva essere il Folfox oppure il Capox con la capacità binaorale, senza una randomizzazione vera e propria tra i due tipi di chemioterapia. Ecco, perché c'era l'aspettativa appunto che i tre mesi potessero bastare? Sulla base di quali osservazioni precedenti? Ma, vi erano alcune osservazioni dei tempi del fluore folato, che era la chemioterapia adiuvante precedente all'introduzione dell'oxali platino, che suggerivano che tre mesi potessero essere equivalenti a sei mesi. In più, naturalmente, il grande desiderio di tutta la comunità oncologica dei pazienti era quello di poter drasticamente ridurre la tossicità, in particolare la neurotossicità legata a un trattamento prolungato con oxali platino. Dopo sei mesi di trattamento, un 13-14% di pazienti trattati ha un grado di neurotossicità residua che è francamente invalidante e che parzialmente reverte con il tempo. Quali sono stati i risultati? Effettivamente i tre mesi sono stati pari ai sei mesi o ci sono state delle lievi differenze? Facendo alcune premesse, cioè che gli studi analizzati, sei in particolare, hanno ancora alcuni dati immaturi in alcune situazioni e che vi era una certa eterogeneità di pazienti. Pensiamo che c'erano studi che inserivano i secondi stadi insieme ai terzi, altri solo ai terzi stadi. uno studio grosso che è lo Scott, inseriva anche pazienti con tumore del retto, non solo del colon. A parte questa eterogeneità, diciamo che lo studio formalmente per quello che era l'end point di non inferiorità e da un punto di vista meramente statistico è da considerarsi negativo, perché non si è raggiunta la prova provata della non inferiorità statistica. In realtà, se guardiamo le curve dell'intention to treat di questi 13.000 pazienti, vediamo che la differenza tra tre mesi e sei mesi è dello 0,9% detrimentale per i tre mesi rispetto ai sei mesi e se l'analisi viene fatta solo sui pazienti che hanno fatto capox, cioè con la capecitabine e non con il folfox, questa differenza pare scomparire. I tre mesi sembrano essere equivalenti ai sei mesi. Atteso, ma provato con il metodo scientifico, l'abbattimento drastico delle tossicità, in particolare della neurotossicità, ridotte a un terzo rispetto ai sei mesi. Senti, dottor Zaniboni, i tre acrin ci servono poi per trovare nuovi indirizzi alla medicina. Ecco, questo studio cambierà la pratica clinica quotidiana oppure necessita di confermi, di studi randomizzati e controllati, insomma di qualcosa che adesso ancora non c'è? Io penso che ulteriori studi in quest'ambito con farmaci ormai vecchi, generici di nessun interesse per le aziende farmaceutiche, non ne vedremo altri. Dovremo aspettare analisi successive più mature dei dati che stanno ancora affluendo. Ci sarà sicuramente un update tra uno o due anni di questa grossa meta-analisi. Per quanto riguarda il cambiare la pratica clinica oggi, direi che il dibattito è piuttosto acceso su base mondiale. Sono le due anime tra ciò che è statisticamente significativo e ciò che è clinicamente rilevante. È l'eterno dilemma che accompagna praticamente tutta l'oncologia. Diciamo che il buonsenso, come al solito, può aiutare. Nelle analisi per sottogruppi sembrerebbe, ad esempio, che i pazienti a minor rischio, cioè i T3N1 con meno di 4 linfonodi positivi, possano con più sicurezza essere trattati con 3 mesi, specie se si sceglie uno schema come il CAPOX. Per quanto riguarda pazienti a rischio più elevato, che sono circa il 40% di quelli che vediamo in terzo stadio, cioè i T4 e o N2 con più di 4 linfonodi positivi, è probabilmente al momento più prudente mantenere il trattamento a 6 mesi, anche se, come sempre, peraltro abbiamo fatto ancora prima di questi studi, di caso in caso si valuta in base alla tossicità esperita dal paziente quando eventualmente staccare il trattamento con oxaliplatino e magari procedere verso i 6 mesi con la solo flora pirimidina. Grazie. Grazie. Grazie.